Trovare nei Lidio, lungo la spiaggia libera, turisti che affittano una casa al mare diventa un'impresa quasi impossibile in questi primi giorni di timida estate. In pochi, pochissimi hanno scelto questa forma di soggiorno perché la crisi si fa sentire e i prezzi, nonostante siano calati, non permettono a una famiglia di concedersi quello che diventa sempre più un lusso per pochi. La sensazione è quella di un crollo generalizzato che si potrà arginare solo in agosto. Sono diminuite e le case restano vuote, la stessa. Lei è proprietaria anche di qualche casa? So proprietaria ma non affitto, voglio dire io non affitto, però conosco tutto, so tutto, so i prezzi, so tutto. Di quanto sono scesi quest'anno? Sono scesi di parecchio, due o trecento euro. Sono ospite di mio padre, quindi vengo da Roma e sono qui per una settimana, tutto qua. Si potrebbe permettere una settimana in affitto? Beh, diciamo di no, perché ho approfittato di questa situazione proprio per venire al mare. I dati forniti da alcune agenzie immobiliari delineano un quadro negativo per gli addetti del settore. Le famiglie dicono che un mese e due settimane al mare sono troppo costose e allora chiedono solo una settimana occupando la casa per una piccola frazione. Chiedono sempre periodi più brevi. I proprietari si stanno adeguando, stanno scendendo anche perché hanno visto che le richieste, specialmente per giugno e luglio, sono crollate, diciamo. Possiamo fare un esempio, una settimana? Generalmente Termoli vogliono affittare, diciamo, sono appartamenti che noi ci occupiamo, quindi stiamo anche sui trecento, cioè a settimana verrebbero sui trecento euro, tre cinquanta, che anche per tutto il mese sui mille, mille e cinque dipende, però sono appartamenti arredati bene, messi bene. Si è attestato più o meno stabile rispetto all'anno scorso, diciamo, c'è stato un decremento, possiamo parlare dal 5 al 10% come prezzi di vendita, insomma, sì, dal 5 al 10% in meno rispetto all'anno scorso, però diciamo che le richieste grossomodo continuano ad esserci, almeno per quanto riguarda, insomma, la casa al mare, sì. Grazie.